E' bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo qui tornati per parlare di una notizia di calcio mercato Prima che inizi a parlare della notizia del giorno vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto Mi raccomando, cosa molto importante, lasciate tantissimi like qua sotto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quello di cui vi sto per andare a parlare Oggi vi parlo di due notizie di calcio mercato in uscita, questa volta perché il Lecce ovviamente è attivo, si sul fronte delle entrate ma è attivissimo E soprattutto il compito più importante forse è quello di sfoltire la rosa con gli esuberi e soprattutto in queste ultime, entriamo nelle ultime 24 ore di calcio mercato potrebbe succedere di tutto Oggi vi andrò a parlare di Josef Malè che è in procinto di andare all'Empoli e di Federico Di Francesco che è pronto a scendere di categoria per approvare al Palermo Vi parlo prima di Josef Malè, già nel video che vi avevo fatto ieri in cui andavo a parlare dell'acquisto di Roberto Piccoli che rientra nell'affare Malè Vi avevo fatto un pensiero sul calciatore marocchino arrivato nella scorsa sessione calcio mercato invernale in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina Oggi vi andrò a dire tutti i dettagli sull'operazione perché ci sono stati degli aggiornamenti e soprattutto nel video di ieri vi avevo detto che non ero certo della formula con cui Malè approdava l'Empoli e Piccoli approdava l'Ecce Quindi innanzitutto mettiamo in chiaro questa cosa perché me l'avete chiesto anche nei commenti Josef Malè dovrebbe andare in prestito secco, quindi in prestito senza diritto e senza obbligo di riscatto Quindi in prestito secco vuol dire che va a fare una stagione e poi ritorna a l'Ecce Dovrebbe andare in prestito secco all'Empoli e Roberto Piccoli dovrebbe fare lo stesso percorso inverso Quindi Roberto Piccoli arriva a l'Ecce con la formula del prestito secco e Josef Malè va all'Empoli con la formula del prestito secco Josef Malè, i numeri della scorsa stagione 2022-2023 Ha giocato 17 partite con la maglia del Lecce per un totale di 672 minuti giocati Che è una media di circa 40 minuti a partita, per la precisione sono 39,53 minuti Ha servito un assist nell'ultima giornata di campionato, quella persa in casa contro il Bologna Ha avuto 3 cartellini gialli, 41% di duelli vinti con 37, per la precisione vinti e 52 persi Il 50% di tiri nello specchio della porta, il 72% di passaggi riusciti, 142 riusciti e 54 pallini 47% di contrasti vinti, 8 vinti e 4 persi 22 falli commessi e 10 falli subiti Allora, come abbiamo già detto ieri, a me dispiace che Josef Malè stia andando Però, visto che è un'operazione in prestito secco, già ieri i ragazzi avevano un'opinione diversa Perché sapevo, dalle mie fonti ovviamente, dalle fonti che circolavano anche sul web Che Malè stia andando all'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto Quindi già avevo un'opinione diversa Però, già che sta andando, ora con la formula del prestito secco dovrebbe essere prestito secco Poi magari può cambiare tutto e magari andrà in prestito con diritto di riscatto Questo lo capiremo nelle prossime ore quando arriverà l'ufficialità Però, già il fatto che stia andando solo per questa stagione È un fatto che mi rincuora Nel senso che, secondo me, ha grandissimo potenziale Malè, ragazzi Nella scorsa stagione, ve l'ho già detto ieri Non ha avuto, diciamo, il tempo di mettersi in mostra Non aveva, tra virgolette, le carte regola Perché non aveva svolto il ritiro precampionato con il Lecce E arrivava a Lecce in una formula fisica non ottimale E poi doveva comunque ambientarsi Non è stato dato molto spazio Ma pure lui non è che abbia poi così ripagato la fiducia che gli è stata data da Baroni E poi la stagione è finita così Il Lecce, in questa sessione calciomercato, inizialmente non l'aveva messo in uscita Però poi con le rotazioni da Versa, con i nuovi acquisti e quant'altro Non è rientrato più nel progetto E allora il Lecce ha valutato delle possibili offerte Era arrivata l'offerta del Protinone Poi si è fatto avanti l'Empoli a sorpresa E a quanto pare andrà proprio in Toscana Per quanto riguarda Federico Di Francesco Più o meno lo stesso discorso Era un ragazzo, comunque un giocatore Da cui si aspettava sicuramente di più nella scorsa stagione Forse ci ha, in questo modo Ha fatto una stagione alla di sotto delle aspettative Ma proprio veramente tanto Perché ci si aspettava tanto da lui Infatti ha collezionato 36 presenze In totale con la maglia del Lecce 23 da titolare Quindi 23 presenti da titolare Due gol e due assist In questa stagione Ha giocato, ragazzi, veramente È entrato da subentrato Ha giocato pochissimi minuti Contro Lazio, ha cambiato la partita E ha regalato la vittoria ai giallorossi Il Lecce, anche lui, non l'aveva messo sul mercato Però poi il club giallorosso Ha aperto la cessione Su richiesta del giocatore ex SPAL Aveva un contratto Qui in Salento fino al 2025 Perché Federico Di Francesco ha chiesto la cessione? Perché vuole andare al Palermo? E perché sta per andare al Palermo? Federico Di Francesco ha chiesto la cessione perché Non rientrava nelle rotazioni da titolare di Roberto D'Aversa Rientrava comunque nel progetto Però non rientrava nell'11 titolare di D'Aversa E quindi lui ha optato per scendere di categoria Ma andare a fare magari il titolare E ovviamente la conseguenza di tutto ciò è anche il fatto che i cugini I gemellati rosa-nero gli offrono un contratto più lungo e a cifre più sostanziose Si tratta di un triennale con opzione per un ulteriore anno E su di lui c'era anche la Sampdoria Che però non aveva l'accordo economico con il Lecce Per quanto riguarda la formula con cui andrà Di Francesco Andrà via a titolo definitivo Per una cifra che si aggira attorno al 1.300.000 di euro Il Lecce aveva chiesto 1.500.000 La Sampdoria ne aveva offerti circa 1.000.000 1.200.000 Però le cifre richieste da Lecce ovviamente erano più alte Il Palermo inizialmente ne aveva offerto 1 Poi il Lecce ne aveva chiesto 1.500 Si sono venuti incontro e a 1.300 hanno chiuso Detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video In questo video ho parlato tanto Però erano due operazioni Ve ne ho parlate in breve Quindi alla fine ci può anche stare Grazie mille a tutti per aver visto questo video Forza Lecce sempre Ci vediamo domani con un nuovo video In cui vi andrò a parlare di altre due operazioni di calcio mercato E poi ci vediamo il 2 di settembre Con un video accurato su tutta la sessione di calcio mercato Che ha fatto Lecce sia in entrata sia in uscita In cui andrò anche a dire la mia opinione E a dare un mio voto finale Detto questo ragazzi Grazie mille a tutti Ci vediamo in un prossimo video Forza Lecce Grazie mille a tutti